Santo Stefano si lascia lapidare senza opporre resistenza, a dimostrare che la sua devozione per Cristo è molto più importante della vita stessa. Un raggio di luce celeste colpisce il corpo del santo per infondergli forza. El Seimer ha rappresentato tutto con meticolosa precisione, ponendo particolare attenzione alle fasce muscolari. Gli angeli, in volo, a sinistra e l'uomo in piedi sulla destra, danno all'artista la possibilità di rappresentare figure in azione. Pittore e incisore di origine tedesca, El Seimer si recò in Italia nel 1598 e qui fu fortemente influenzato dagli artisti veneziani. Cercò di operare una fusione della tecnica coloristica dei veneziani con la sua padronanza degli effetti di luce e il suo realismo, riuscendo a ottenere risultati come questo. Molti suoi dipinti furono copiati da altri incisori e la influenza si è stese per tutto il XVII secolo.